Il gran rifiuto di Sophie Marceau. L'attrice transalpina non ha accettato la legione d'onore, la più alta torificenza di Francia. La spiegazione l'affida a Twitter, postando un articolo del quotidiano Le Monde che dà conto dell'operato di colui che è stato appena insegnito dal presidente Hollande. Il principe saudita Mohamed Benayef, accusato dagli attivisti dei diritti umani di crimini contro l'umanità, in particolare di centinaia di condanne a morte arbitrarie di oppositori politici. E sarebbero già 70 le persone decapitate in questo 2016 in Arabia Saudita. Nessuna intenzione quindi di succedere nel registro degli onorati a tale personaggio. Una scelta quella dell'attrice che sta riscuotendo molti consensi nella società civile francese e che pone la Marceau accanto a nomi celebri che risposero picche al richiamo dell'Eliseo. Come gli scienziati Pierre e Marie Curie, gli scrittori Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir, il cantautore Georges Brassant e recentemente l'economista Thomas Piketty.